La composizione delle commissioni di gara, l'affidamento a privati di servizi come la pubblica illuminazione e l'approvazione della manovra di bilancio sono stati temi al centro di una conferenza stampa convocata oggi da Giuseppe Mainiero che all'Andella non le ha mai mandate a dire è certo non comincerà ora che la Corte dei Conti minaccia il dissesto finanziario del Comune. Questa amministrazione sta tentando attraverso l'approvazione del bilancio del piano triennale delle opere e dei servizi di ipotecare il futuro di questa città soprattutto attraverso dei meccanismi di affidamento che non consentono assolutamente a questa città di risolevarsi dalle secche perché il punto è questo, noi dobbiamo razionalizzare la spesa invece questa amministrazione sta cercando di congelare la spesa storica. Il costo storico a cui Mainiero fa riferimento è quello della pubblica illuminazione, 2 milioni 400 mila euro che l'amministrazione paga dal 2012 ad oggi, una cifra aumentata del 40% rispetto alla spesa reale perché il Comune è un cliente che rientra nel mercato della salvaguardia, ultima e carissima spiaggia per le amministrazioni insolventi. I nostri servizi non sono né economici né efficienti né efficaci, lui sta cercando di renderli efficienti affidandoli ai privati forse però attraverso un costo storico che è assolutamente spropositato rispetto ai termini dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica. Altra questione su cui Mainiero vorrebbe chiarezza riguarda i criteri di costituzione delle commissioni tecniche per l'affidamento degli appalti. Ho stampato i curriculum dei dirigenti che a turno fanno parte delle commissioni e in tutte le gare una sola figura ha le competenze, tutti gli altri che ruotano non vedo come possano esprimersi in termini di competenza. Manzella cosa c'entra nella commissione di gara per l'affidamento della cittadella o del verde o dei campi di Omedei? La gloria fazia nella commissione per la segnaletica stradale, cosa c'entra? Come vengono costituite queste commissioni? Vengono precostituite da una tecnostruttura che si nominano loro stessi senza rispondere al quesito che la legge prevede, ossia che una commissione di gara per valutare l'offerta tecnica per la realizzazione di un plesso abbia almeno due ingegneri, non un solo ingegnere. Così abbiamo fatto riferimento al presidente di queste commissioni che è l'ingegnere Affatato.